Circoliamo è l'iniziativa del consorzio obbligatorio oli usati che porta l'educazione ambientale nelle piazze di tutte le province italiane. Proprio oggi è approdato in piazza 20 settembre a Pordenone, dopo aver già fatto tappa in molte regioni d'Italia. Cerchiamo con questa iniziativa di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla pericolosità di un rifiuto pericoloso che è appunto l'olio lubrificante usato. Il nostro consorzio raccoglie questo rifiuto da 30 anni lo indirizza all'industria della rigenerazione olio lubrificante usato che diventa olio lubrificante nuovo che naturalmente viene rimesso di nuovo nel ciclo produttivo. Non tutti sanno che l'olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso e tutti quanti si dovrebbero diciamo astenere ad allentrarne in contatto. Tutti quelli che cambiano magari l'olio motore da se è bene che non lo facciano ma che vadano dai professionisti che non solo sanno come trattarlo ma sanno anche come smaltirlo perché lo danno a noi. Si tratta quindi di una giornata dedicata alla raccolta dell'olio usato e alla sensibilizzazione rivolta ai privati cittadini con l'obiettivo di prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato del rifiuto urbano. L'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni. Come amministrazione comunale abbiamo collaborato volentieri alla sua organizzazione mettendo a disposizione uno spazio centrale perché possa attirare l'attenzione e coinvolgere il maggior numero di persone possibili. riteniamo che l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sul tema della corretta raccolta dei rifiuti sia fondamentale per stimolarli a tenere dei comportamenti virtuosi che siano sia ambientalmente virtuosi che anche economicamente vantaggiosi. Praticare correttamente la raccolta dell'olio alimentare ma soprattutto anche dell'olio minerale esausto contribuisce al rispetto dell'ambiente ma anche a salvaguardare quella che è la bolletta energetica del nostro paese.